Ciao su Fortnite, oggi dovrà finire la settimana 5 non guardate la missione di corso perchè è buggata però manca se devo arrivare a 3 ore 8 è arrivato a 25 e sinceramente prendere l'elicottero meno Andrei, sapete com'è scappare non è mai una brutta soluzione e Andrei alla fortiglia, così faccio due missioni in una guarda la che a dire i maledetti cosiddetti cosa dico raga, non so cosa dico anch'io sono andati a parte molto interessante eh cosa potrei dire guardiamo la fortiglia macchine vi aspetto eh 1,2,3,4,4,4,4,5,4,5 pam pam dai 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 andrei qui raga ma non è un altro posto però spero che non ci sia un posto mi exp perfetto ah tu ce l'ha adesso mi ricordo questo posto me lo ricordo quindi è una buona cosa spetti a questo posto ma là c'è un maglia no dai però non ha luttato bene e spero che non ha luttato bene eccolo qua prima oh perfetto ho paura questa pompa cosa potrei fare non dico che è impossibile però vai raga non ha luttato raga no vai 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 ce la posso fare il folli che invece la può fare olè ho preso anche questa cascolini mamma mia si botta va dappertutto ok faccio il minno quante me ne mancano quattro 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 raga finisco lo scudone poi mancano poche mi mancano poche raga non c'è niente me ne manca una poi la top che mi manca appena sono riuscito a prendere la cassa di muni sono a strapposto o santa clausa raga 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 è tutto 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 justo lo santa ca Raga sono in due è vero, sono solo solo, sono in due, in due, raga io preferirei scappare, il mio contenio preferito, il colore bianco, ok grazie, no una, ancora una vacca trota, vacca l'ho trovata una, caribru, molto carino, me lo prendo, raga non fate caso come tengo a darmi, adesso lo metto in posto, ok, così vanno già meglio, dai la tappa 25 più una cesta in dimensione, ora scappo, 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 l'elicottero arrivo, 20 bubac, perfetto raga, elicottero, 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 qua elicottero, perfetto, arrivo elicottero, andiamo andiamo raga, ce la posso fare, se sto un po' a volare qua su, ce la posso ancora fare, il portiglio l'ho fatta, parola, si, lozeko, il portiglio, si, si, son da solo, e basta, si, perfetto, fai, l'uomo capo l'uomo l'uomo aluncio la parte di più va bene andiamo in safi aspettiamo che arriva no ma 25 25 allora un attimo chiedetemi scendo giù con il mio acumen preferito ho già fatto le missioni acumen infatti c'è anche l'altro stile dammi qualcosa potevo prendere il flop perché ero là però non volevo rischiare se sapete come non volevo rischiare perché dopo devo fare tutto a capo e dopo veniva brutto il video come fare con gli altri youtuber che sbagliano tutto sbagliano il mondo no devo sbagliare io non sbaglierò e fa così che adesso arrivo un camper di me e mamma mamma ucciso dopo mi uccide malo malo oddio raga non mi faccio mica vedere io no no mi faccio vedere ora la pistolina non è bene dai che prendo il mio scudone posso mettere l'aglietto che gli spammo anche con la R poi non c'è c'è dentro tante colpi raga tanto roba faccio questi alberi qui poi vado bene con i mazzi li ho fatti vado via no mi piace per niente questa musica scappo 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 me ne vado ho di safe ho di safe io da un duaglio si tu non hai capito ma da un duaglio si fraga ok ok non so attento no ah ci stanno non è presa si no mi dice che non so niente non è presa questi qua sono stupidi prendo io perché non la voglio la serva sola ecco ti qua prendo io non ti preoccupare elicottero elicottero mi dai mi dai l'elicottero mi sta un po' rotteleggiando giù per la montagna a posto ah non è a posto ah rimorzione forzata su forno per l'epesodio ah ma mia che casino raga oh mio ah ha fatto male brutto elicottero ti riporta casuccia adesso no la scorsa raga ma la missione di a terra l'usiotto e finisce la tappa 25 non la dà cos'è non ho ritorato no raga un attimo mi butto ok insomma no ce l'ho me l'ho data la missione raga ritorno in lobby ah ho boccato questo no no retro vabbè rubac buoni e anche lei io preferisco così poi vabbè insomma le sfide non l'ho fatta raga no allora adesso l'ho fatto anche bene allora qua cosa ho fatto non l'ho fatta vabbè vabbè cosa che non va ah era la griglia d'oro ok perfetto mi pareto lo cambierò ma proprio mai per farmi dire qua cos'ho ma è questo una ah si muove anche strano adesso andiamo in game ah no non è una coppia ma è single perfetto andiamo il re dei sette mari è pronto la lotta cattivo buono cattivo buono cattivo ah come ho capito non ho capito noi abbiamo capito cosa dobbiamo fare se fuori questo è vero la sua due è messo il questo è vero lì pd porto cos'è pollo un giro ma lo studio altri voto che si chiama scinti stai adai qui lì l'ho vista sto capiccone sloop adesso è felice adesso è una dottoressa perfetto a me è carezzare il suo coso oddio l'ho penetrato male ok così va meglio oh palazzi FBA antimuovere a come il suo sacco mia moglie torata gli occhi poi atto con il ciclo di dati.it non so più per il mio scopo il mio scuola notte da la tua roba mia scuola sentito Sì, io sto sentendo gente, oh, ciao, salve, signori come state? Guardate, spero male, ok, c'è una nitroglicerina là su, mi fa paura lì, raga, io cerco a terra dentro lo yacht, non esternamente, non esternamente, oh, ce l'ho fatta, ok, adesso c'è dove va, 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 va e cosa, voi cosa, voi cosa, voi cosa, voi pensa, questo è Ok, raga, no, raga, no. Oddio, non è possibile. No, 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 cosa, cosa vede? C'è tanto di ping, si cassa cosa c'è tanto di ping. Guarda, guarda. Mi metti i balli, mi metti i balli. Non ci sono, non ci sono. Non voto via, raga, non voto via. Sono un benefitista, non voto via. Mi scapperò, si dovrà salvarmi. Perfetto, non so più caso di errore. Va bene, basta che scappo, va tutto meglio. Scappo, scappo, scappo. Con pane e alba, alba. Vedi quanta gente ce l'apro. Ah, l'ama! L'ama, però l'ama io lo voglio, eh. No, dai, l'ago troppo, non posso. Non è giusto perché l'ago troppo, però, non è giusto. Un gioco cattivo. Ah, raga, però non è possibile che l'ago così tanto, cioè. C'è tanto dei ping, poi l'ago da te. Non voglio dire cose brutte. Ah, ecco due. Raga, sapete di che sono queste macchine? Ah, del posto vicino a Molly. Questo qui, dove c'erano tutte le macchine andando di sfare, le hanno portate quelle di tutte qui. Ecco dove sono andati, cioè, ci sono ancora. Ci riesco a vedere. Poi non so come. L'altro è qua come sono di sotto queste macchine, poi. Povere macchinine. Ci penso io a voi, mamma mia, ci penso proprio io. Un altro cecchino viola, anche da queste granate che fanno sempre senza di danno. Non è poca roba. What? Raga. Non è possibile. Non è possibile. Alla scuola si muove. Alla scuola si muove. No, non c'è, si muove stranamente. Emilia. Oh, così. Pogliamo, balliamo. Balliamo, balliamo tanto pala 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 pala. Boliamo talmente tanto, che mi sboccherò il gioco, ma va bene, perchè non lo so. No, raga, non è possibile, raga, nooo. non è possibile non è tarocco il mondo è tarocco perché non va miseria santa non è possibile che non vada ma fa non andare veramente non è possibile trani dopo ancora qui questo tutto è finito col crash della partita non l'avevi mai detto che c'è stato un problema è bella